ciao ciao a tutti e bentrovati sul mio canale veri asmr per chi non mi conoscesse io sono federica e quello che state per guardare è un video asmr rilassante in whispering quindi un video in cui sussurrerò per voi per te in modo da accompagnarvi e accompagnarti verso il sonno durante questo video la mia voce sarà accompagnata anche dal suono di alcuni oggetti che credo possano risultare altrettanto rilassanti mi raccomando ascoltalo indossando le cuffie oppure gli auricolari e distenditi scegli un posto comodo lascia anche un mi piace e se non sei ancora iscritto oppure iscritta a questo canale farlo adesso cliccando la gaffanellina per non perdere i prossimi video adesso iniziamo e ti racconterò che cosa è successo in questi ultimi giorni eccoci eccoci ecco questa qui questa qui della marca tesori d'oriente me l'hanno regalata insieme al profumo che ho acquistato vedo che si può realizzare un bel tapping dunque sono un po' di giorni che sono sempre dal canale e come puoi vedere sono in una postazione diversa dal solito questa è la mia vecchia cameretta e lì dietro c'è anche il mio letto un po' disfatto questo perché ho dovuto temporaneamente lasciare la mia casa e il mio studio sono in procinto di effettuare un trasloco ma ancora non mi è molto chiaro dove andrò ad abitare so solo che essendoci stati un po' di cambiamenti nell'ultimo anno soprattutto è giusto in questo momento per me spostarmi da quel luogo bellissimo che mi ha accolto dal 2017 è un po' difficile effettuare questo genere di cambiamento mi sento molto positivo un'altra novità riguarda l'agenda ASMR come forse saprete come forse saprai se hai visto il video precedente che ho realizzato questo progetto dovresti sentire il brumo di questa cantella insieme all'editore Polignani un diario un diario agenda appunto dedicato totalmente all'SMR ed è un progetto di volato super fiera perché è veramente molto 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 bello e sono già disponibili i preordini anzi ti lascio giù in infobox il link per dare un'occhiata a questo diario e magari se puoi preordinarlo prima che esca fisicamente nei vari negozi e preordinare il diario ti ricordo ti dà la possibilità di scegliere tra le tue copertine poi una volta che saranno conclusi i preordini ci sarà solo una copertina disponibile che sarà quella più preordinata quella più votata diciamo da tutti e in più avrai in regalo una traccia audio in cui vi racconto un po' le retroscene insomma di questo progetto e come è nato in ASMR naturalmente e una dedica sul diario stesso firmano da me ovviamente spero che questo vi piaccia sono davvero un po' una volta entusiasta di questo diario anche perché non esisteva prima qualcosa del genere è un diario interattivo e all'interno potrai trovare diversi codici da scannerizzare che ti porteranno allo sconto di traccia audio ASMR relative agli argomenti specifici di ogni mese del diario oh questi orecchini nuovi io non amo moltissimo gli orecchini in realtà però quando sono tenti in nanti non riesco a resistere e ricompro e ho anche in dosso la maglietta di pampling adesso ve la faccio vedere perché è bellissimo vediamo chi coglie la citazione e dice questo non è un cappello sono sicura che molti di voi capiranno a quale libro è riferita da un indizio è uno dei miei libri preferiti in assoluto beh cambiamo trigger passiamo ad un altro argomento questo è questo è il play foam anzi il foam clay e lo slime croccante il mio trigger preferito a parte il whispering è il tapping qualcuno di voi lo sa già quindi faccio tapping su qualsiasi cosa eccolo blu lo vedo anche un bel po' appiccicoso forse perché fa caldo comunque sicuramente qualcuno lo noterà e lo scriverà nei commenti perché di solito succede sempre e ho fatto nuovamente il filler di aluronico di acido aluronico alle labbra e quindi adesso le vedete super gonfie tipo Valeria Marini ma questo è un gonfiore che ovviamente tende a diminuire nel tempo già nell'arco di pochi giorni dovrebbe come al solito ridursi è un trattamento del quale siete sempre quasi tutti molto curiosi e mi chiedete molto spesso perché lo faccio periodicamente come funziona se è irreversibile se crea magari dei danni oppure quant'è la sua durata e qual'è il suo costo io ho già fatto un video in cui ho accennato a questo argomento ma non ho mai fatto un video specifico e se vi interessa anche se non c'entra molto con l'SMR però se siete curiosi potrei farne uno proprio in merito comunque quello che posso dire ripetere in realtà adesso è che si tratta di un trattamento che ha una durata di alcuni mesi e che insomma dal momento in cui viene effettuato tende a regredire nel tempo nei giorni successivi finché l'effetto non scompare soprattutto se appunto il trattamento non si ripete ad alcune persone piace ad alcune persone non piace e so che esponendosi pubblicamente su youtube o comunque sul web una persona in questo caso io è anche soggetta a recette critiche oppure apprezzamenti anche su aspetti di sé che non hanno molto a che vedere con il genere di video o il messaggio che si vuole far passare nel video questa è una cosa che non mi piace tanto perché preferirei insomma che ognuno fosse libero di fare ciò che vuole soprattutto per il loro corpo senza essere giudicato oppure senza che necessariamente altre persone sentano il bisogno di esprimere il proprio giudizio nei confronti di cose che non hanno nulla a che fare con loro però non lo so quello che faccio io su di me che si tratti del filler che si tratti di un taglio di capelli che si tratti di un aumento o una perdita di peso solitamente a me piace quando ovviamente è conseguenza di una libera scelta e quindi così se comunque volete un video un po' introspettivo in cui parlo di questo argomento fatemelo sapere intanto c'è sempre l'opzione del non ascoltare il contenuto del discorso e concentrarsi semplicemente sulla voce e spero nel frattempo che io ti stia rilassando altre novità ci sarebbe un mondo da scoprire questo slime è bellissimo oh mamma mia adoro ma lo riponiamo e cambiamo trigger allora altre novità sulla mia vita è un periodo un po' strano in cui sono particolarmente felice ma anche piena di altre emozioni perché sono capitate tante cose e ho avuto modo di riflettere sulla mia capacità di scegliere o non capacità di scegliere di perdere i casi situazioni a me affini situazioni diciamo non tossiche so che devo lavorare un bel po' e fare un viaggio molto difficile con la scoperta di me stessa e delle cose che voglio davvero mi sento abbastanza determinata a dire la verità però capita che alcune situazioni riescano a bloccarmi sicuramente avere vicino le persone giuste per me è sempre stato di grande aiuto e non è semplicissimo individuare subito le persone giuste che bello questo che bello sto preparando grandi cose relative all'agenda e relative a dei progetti correlati all'agenda so che molti di voi l'hanno già preordinata e soprattutto che non vedono l'ora di scoprire quali altri artisti del panorama smr hanno partecipato a questo progetto mi auguro che presto possiate averla direttamente nelle vostre mani e farmi sapere che cosa ne pensate è davvero qualcosa di innovativo quindi vi lascio in descrizione anche un video che ho realizzato insieme a Priscilla sul suo canale riuscito è molto carino secondo me c'è questa challenge ti rilasso un metro di distanza e ve lo lascio giunghi quindi spero passare piacervi piacerti bene per questo video di aggiornamento è tutto ne registrerò altri così cercherò di non lasciarvi soli nei prossimi giorni nonostante siano giorni un po' frenetici perché come avete visto ho dovuto appunto cambiare postazione e portare un sacco di cose qui in più c'è l'agenda e questo lavorare per voi mi sta portando via molto tempo e sono molto contenta di questo quindi sono tutta presa ecco bene adesso ti lascio la buonanotte fammi sapere se sei arrivato o arrivato fino a qui quale dei trigger che ti ho proposto ti è piaciuto di più e naturalmente noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo l'agenda un po' di si Grazie.